Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella rubrica degli esperimenti con Ecoplayer 2012 Oggi faremo un esperimento che riguarda la tensione superficiale Iniziamo! Ma prima di tutto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Quello che serve? Ci serve un piatto fondo con dell'acqua Ci servono dei fiammiferi Del detestivo E un contogocce E se no una pipetta di plastica Procedimento Pregniamo 4 fiammiferi E posizioniamoli sull'acqua in modo tale di fermare una croce Come vedete qua Con la pipetta prendiamo un pochettino di detersivo Ecco qua Versiamo un pochettino di gocce sul centro Guardate ragazzi I fiammiferi si sono tutti spostati verso i bordi Questo perché il detersivo contiene delle sostanze tensioattive Che rompono la tensione superficiale Riproviamo ragazzi Pipettano il detersivo Così va bene Rimettiamo le gocce Guardate Si spostano piano piano tutte verso il bordo Ragazzi ci vediamo al prossimo esperimento Ciao a tutti 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 Ciao a tutti